Buon pomeriggio a tutti e grazie al Ministro Musumeci e al The European House Ambrosetti per aver promosso anche quest'anno il Forum Risorsa Mare, una occasione estremamente preziosa di analisi e di confronto tra pubblico e privato sulle opportunità di sviluppo e di crescita che il mare offre alla nostra nazione, perché l'Italia è una nazione particolare, lo abbiamo detto tante volte, è una nazione continentale e marittima allo stesso tempo. La nostra testa è un pezzo di Mitteleuropa, mentre i nostri piedi sono immersi nel mar Mediterraneo. Questo ci rende un ponte naturale tra il nord e il sud dell'Europa, tra l'Europa nel suo complesso, l'Africa e il Medio Oriente. Noi siamo una piattaforma naturale nel Mediterraneo, un mare che per millenni è stato il cuore degli scambi culturali e commerciali del mondo e che ora è tornato ad essere centrale come spazio di connessione tra l'Atlantico e l'Indo-Pacifico, attraverso il Golfo Persico, il canale di Suez. Questo è un vantaggio enorme, un vantaggio del quale non sempre siamo stati consapevoli e che dobbiamo invece saper valorizzare al massimo. È un'occasione dal punto di vista energetico, ad esempio, perché noi possiamo diventare lo snodo strategico per i flussi energetici tra il Mediterraneo, l'Africa e l'Europa. È un'ambizione, come sapete, alla quale il Governo sta dando voce anche attraverso il Piano Mattei, che ha tra i suoi pilastri proprio l'energia e che vuole portare avanti progetti strategici di connessione anche energetica. Dall'interconnessione elettrica Helmed tra Italia e Tunisia al corridoio H2 Sud per il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa verso l'Europa. Dopodiché è un'occasione anche dal punto di vista delle interconnessioni. Mi riferisco allo sviluppo di IMEC, il corridoio infrastrutturale ed economico tra Europa, Medio Oriente e India, che l'Italia ha contribuito a far nascere in ambito G20 e che può liberare un enorme potenziale per il nostro commercio e per le nostre imprese. L'economia del mare ci dà già grandi soddisfazioni. Nel 2022 il contributo al prodotto interno lordo è stato di 180 miliardi di Euro. Però abbiamo l'opportunità di fare sempre meglio se uniamo gli sforzi e lavoriamo in modo strategico come il governo intende fare con il piano del mare che non a caso ha stilato. È un'occasione dal punto di vista geopolitico perché se è vero che il Mediterraneo è tornato al centro del mondo e noi siamo al centro del Mediterraneo allora l'Italia ha una possibilità straordinaria, cioè quella di tornare ad essere assolutamente centrale e protagonista nelle dinamiche globali. Anche esplorando la corsa al mondo sottomarino, un dominio nuovo nel quale l'Italia intende giocare un ruolo di primo piano. Abbiamo già istituito il Polo Nazionale della Dimensione Subacqua, sta per approdare in Consiglio dei Ministri un disegno di legge per regolare e disciplinare questa materia. Quando sono arrivata a Palazzo Chigi mi è stato detto che l'ufficio del Presidente del Consiglio è noto come la prua d'Italia. È una cosa che mi ha colpito molto, mi ha fatto riflettere su quanto la nostra storia e la nostra identità siano profondamente legate al mare, a quello che il mare rappresenta. Io penso che non spetti altro che prendere quella storia e quell'identità e farle navigare nel futuro tracciando le nuove rotte del XXI secolo. È quello su cui il Governo è al lavoro e vi ringrazio per contribuire con questa iniziativa. Buon lavoro a tutti.